l'autaro ma che signi come c'è questo ma chi è l'autaro cianetti e di che li guardiamo da ma sto ma te posso dicere una cosa stava detto un po la resta mente la parola ma stai venendo in gira stamattina un pozzo pulata non sapete che avevo studiato venite fanno di 30 anni lui pura di 30 anni come cimmo onestamente lui ha rubato a 30 anni frate atto sito che è meglio